Un saluto da Capitano Antenna. Oggi vi presento un prodotto molto interessante che trova larga applicazione in ambito professionale ma può aiutarci a risolvere problemi specifici anche nell'ambiente domestico. Si tratta della centrale programmabile digitale terrestre Domino DMS. Eccola qua. La centrale è dotata di un ingresso FM, quattro ingressi VHF-UHF, le due uscite di cui una test, uno slot per l'alloggiamento della SD card che potrà servirci ad esempio per copiare la configurazione della centrale su altre centrali. Con la manopola centrale riusciremo a navigare nel menu e ad effettuare la programmazione. Il prodotto ha enormi potenzialità. La centrale consente infatti di riorganizzare fino a 50 canali grazie anche alla possibilità di spostarli in frequenza. Consente inoltre di equalizzarli prima di distribuirli. La funzione AGC su ogni singolo MUX rende il prodotto anche idoneo alle zone di mare. Ma per meglio mostrarvi le potenzialità di questo prodotto faremo alcuni esempi. Supponiamo che i segnali ricevuti in antenna siano fortemente stratificati con importanti differenze di livello tra i picchi più alti e i canali più deboli. Utilizzando un classico centralino andremo ad amplificare tutti i segnali ricevuti ma in nessun caso riusciremo a risolvere il problema della disequalizzazione. Ciò potrebbe comportare in distribuzioni molto estese che i segnali più deboli giungano scarsi alle prese più lontane. Utilizzando la nostra centrale domino riusciremo a risolvere questo problema perché oltre ad amplificare i segnali ricevuti gli stessi vengono equalizzati. Un altro caso in cui la centrale domino può aiutarci nel lavoro di installazione è quando abbiamo la necessità di miscelare contributi differenti con il rischio di creare dei conflitti insanabili. L'esempio che faremo può essere più o meno aderente alla realtà ma è utile per farci capire le potenzialità del prodotto. Supponiamo di essere in un comune del nord Italia in cui i segnali RAI siano ricevibili da una direzione diversa da quelle di tutti gli altri servizi. Supponiamo inoltre di voler ricevere dei canali irradiati dalla vicina Svizzera. In questo caso le antenne riceventi installate saranno tre. Come ciliegina sulla torta supponiamo di voler miscelare i segnali provenienti da due modulatori RF uno dei quali gestisce il DVR della videosorveglianza l'altro collegato al decoder della PayTV. Casi come questo richiederebbero l'ausilio di filtri passa elimina canale e o di filtri convertitori e o di centralini con ingressi appositamente tagliati. Il lavoro di taratura e di messa a punto diventerebbe estremamente laborioso. Con la centrale Domino tutto si diventa più facile. In effetti noi riusciremo a prelevare da ogni ingresso solo i servizi che ci servono di allocarli in maniera razionale sulla banda di amplificarli ed equalizzarli prima di distribuirli. In effetti noi riusciremo a prelevare da ogni ingresso. Per il nostro prodotto Per il nostro prodotto Bene, questo era solo un piccolo assaggio di quello che può fare il prodotto. ci sarebbero tante tante altre cose da dire per cui se avete domande come sempre vi invito a contattarmi vi invito inoltre a visitare la nostra pagina facebook su cui troverete il bellissimo gruppo missione digitale terrestre dove potrete iscrivervi vi invito inoltre ad iscrivervi al nostro canale youtube e a visitare il nostro e commerce capitanantenda.it un saluto e alla prossima Grazie